ciao ragazzi eccoci come promesso al video di festeggiamento del primo anno di arte quindi devo ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito in primo luogo i ragazzi gli alunni che sono stati sempre molto affettuosi e che hanno anche fatto i compiti guardando i miei video e poi anche voglio ringraziare tutti gli altri grandi o piccoli che siano che hanno avuto il piacere di seguirmi in queste lezioni un po' di storia dell'arte un po' pratiche di disegno di pittura e di vari lavoretti oggi in questa festa del mio compleanno anche perché coincide con il mio compleanno non vi dico quanti anni facciamo qualcosa di pratico però non faccio un tutorial farò a breve una spiegazione di tutti i passaggi di tutte le procedure da seguire per realizzare questi lavori su un blog che sto per aprire quindi vi darò poi tutte le indicazioni per seguirmi anche lì se vi fa piacere dove pubblicherò i miei lavori personali quindi non lavori per la scuola o comunque in cui prendo spunto da artisti vari e faccio delle semplificazioni ma dei lavori di mia invenzione questi che vi voglio far vedere comunque oggi quindi ho fatto solamente delle foto per mostrarvi i lavori sia finiti sia in corso d'opera sono dei mosaici fatti però non di pietre ma con dei semi dei legumi secchi e cereali sempre secchi quindi sfruttando i colori della natura quello che è molto bello secondo me da vedere nei contrasti che si creano e anche le diverse dimensioni di questi semi quindi delle texture che variano in base alla forma e ai colori si può ottenere degli effetti secondo me molto gradevoli quindi a partire da disegni geometrici che ho inventato sono andata poi prima a colorarli con i colori che corrispondevano a quelli dei semi che avrei voluto utilizzare e poi semplicemente con una colla vinavil e tanta tanta pazienza ad attaccare questi semini uno per uno o quelli più piccoli diciamo a piccoli gruppetti sono andata a realizzare questi lavori che vi faccio subito vedere il primo quindi diciamo quello da cui sono partita ha un disegno con linee tutte rette e alterna i colori scuri dati dai fagioli rossi dai fagioli neri e basta con i colori scuri scuri scusate ci sono anche delle lenticchie piccoline che fanno un marrone quindi marrone e nero dato dai fagioli rossi il nero dai fagioli neri e queste lenticchie piccoline è un marrone un po' meno caldo rispetto a quello dei fagioli rossi poi c'è il giallo dato dai semi di mais quelli proprio dei popcorn e da delle lenticchie gialle e infine il colore più chiaro è il bianco dato naturalmente dal riso quindi un lavoro che è anche un passatempo molto rilassante devo dire che mi ha permesso di godere anche di questi materiali naturali naturalmente alla fine ho dovuto dare un fissativo una vernice trasparente che proteggesse anche questi semi da eventuali insetti che si mangiano questi materiali e quindi per proteggere e dare anche maggiore lucentezza gli altri che sto realizzando di questi mosaici sono quattro però ne ho realizzato ancora uno completo che è questo dove ho aggiunto dei colori un pochino più vivaci cioè ho utilizzato il verde chiaro dei piselli spezzati l'arancione delle lenticchie rosse e poi anche oltre al giallo del mais un peperoncino frantumato che ha questo colore che va dal rosso marrone al giallo e poi dei fagioli che danno il marrone e il bianco è realizzato con del riso basmati che è quello un pochino più allungato quindi ho ottenuto altri contrasti di colore e una diversa texture in base alla forma di questi materiali ecco il peperoncino non è un seme di leguminose o di cereali ma è pur sempre un seme e quindi ci sta l'altro lavoro è in corso d'opera infatti vedete anche la parte in cui ancora non ho attaccato i semi e che è colorata dei colori che penso di riempire il rosso sarà il peperoncino il marrone saranno i fagioli e il verde da finire con i piselli spezzati spezzati perché se sono a metà aderiscono meglio e quindi si attaccano più facilmente e ce ne saranno altri due perché saranno in tutto quattro quadrati che creeranno quindi un'opera unica alla fine in queste vacanze d'estate mi auguro di terminare l'opera e quindi poi magari ve la farò vedere finita possibilmente sul blog dove appunto cercherò di aggiornarvi di tutte le idee che mi vengono e che ho voglia di portare avanti di avere anche i vostri consigli le vostre opinioni ed è un modo per essere stimolata anche io a fare sempre qualcosa di nuovo quindi questo era il breve video di festeggiamento ancora grazie a tutti siete se non sbaglio 227 al momento che rispetto ai milioni che si sentono forse non sono tanti però per me siete tutti importanti e vi ringrazio tantissimo quindi un bacio grosso 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 dalla vostra prof e ci vediamo la prossima volta ciao 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 ciao